Radio Bari.Calt, gli incontri culturali e musicali in primo piano su Radio Bari. Ciao Bari, buon mercoledì 4 febbraio a tutti, ben ritrovati su Radio Bari.Calt. Scusate, ma stamattina abbiamo dei disturbatori. Io do il benvenuto a Gianvito Mista P, buongiorno a te, perché oggi parliamo di Bari Pop Metro. Fatelo smettere all'istante, perché sennò io non riesco ad andare avanti. Allora, avete l'ufficio stampa parecchio divertente al Demodè. Allora, siamo qui questa mattina per parlare di un altro evento targato Bari Pop Metro, insomma un'organizzazione di giovani che organizza delle serate meravigliose al Demodè. Il locale è sempre pieno, la sala è sempre piena, visto che al Demodè ce ne sono tre, non più due. Questo sabato ci saranno degli ospiti particolari, ci saranno i Macete Warriors. Allora, chi sono i Macete Warriors? Così li presentiamo a chi ci sta ascoltando. Allora, questa è nuova formazione di Macete. Abbiamo Erraton, Enigma, DJ Slight e Jake the Smoker. Te li sei ricordati tutti, io stavo cercando la mail per aiutarti, te li sei ricordati tutti. Anche perché voi avete, insomma, il merito di oltre a far divertire con la vostra musica, con la vostra crew, quando si organizzano le serate, tutti coloro che vengono poi ad ascoltarvi, a ballare, a scatenarvi, a scatenarsi insieme a voi. Però portate anche dei veri e propri big del panorama, della scena hip-hop, non solo italiana ma anche internazionale. Sì, tra quelli internazionali abbiamo avuto Tony Touch, gli MOP e uno dei padri fondatori dell'hip-hop internazionale, Keres One. Invece per questa nuova stagione avete già avuto qualche appuntamento? Questo non è il primo del 2015. No, abbiamo avuto già altri ospiti. E ne avrete degli altri, io voglio, fino alla chiusura della stagione, diciamo, invernale. Da qui a cent'anni. Da qui a cent'anni, anche perché voi siete giovanissimi. Bari Pommetro è nata da solo qualche anno. È nata nel 2009, il 23 ottobre 2009. Però, insomma, è bello perché avete un seguito eccezionale, anche perché piano piano, piano piano ce l'avete fatta e avete portato qui magari anche artisti che ora sono sulla scena commerciale, invece prima erano conosciuti, diciamo, dalla nicchia da chi l'hip-hop lo segue e da chi con l'hip-hop poi è nato. Un po' è stato così. Esatto, sì, sì, sì. Tu da poco ti sei giunto o sei sempre stato? No, sono stato sin dall'inizio. Sin dall'inizio. Sei stato tu uno dei... di coloro che hanno fatto nascere... Dei fondatori. Dei fondatori, i padri fondatori di Bari Pommetro. Senti, ma se dovessi descrivere i Macete Warriors, come li descriveresti? Che gruppo sono? Allora, a me personalmente piacciono perché fanno uno stile bello hardcore duro, diciamo, con delle liriche molto tecniche, quindi a me piace questo tipo di rap, quindi li preferisco, diciamo. Senti, da qualche anno a questa parte, l'hip-hop sta un po' mischiando a quella che è la scena anche pop nazionale, no? Vediamo spesso... In Italia era inevitabile. Ecco, anche perché vediamo spesso duetti tra rapper e poi magari cantanti, soprattutto donne, perché si sta creando questo fenomeno del duetto tra uomo e donna. C'è una cosa del genere, ecco. Come la prendete voi? Insomma, i vostri beniamini, coloro con cui siete cresciuti, ora li vedete lì che vanno un po' a sporcare, tra virgolette, quella che è la loro musica. Come l'hanno presa da quelle parti? Alla fine bisogna guardare il punto di vista del business. Eh certo. Quindi quando arrivi a un certo livello, tipo il Club Dogo, sei sotto una major, comunque sia hai dei numeri enormi, fai dei numeri enormi nei live, e robe varie, è inevitabile che comunque sia arrivi a mischiarti ad altri geni. Poi comunque siamo in Italia e si sa che in Italia il genere principale è il pop italiano. Quello che va più per la maggiore, soprattutto nella fascia degli adolescenti, i numeri poi parlano, sono veramente cifre importanti. Non solo di vendite, ma anche di seguaci, ecco, di fans. A me, per capire la situazione, è bastato proprio vedere live il pezzo di Club Dogo con Arisa, il Demo Day è venuto completamente giù. Ecco. Cioè, quindi bisogna prendere la confilosofia. Ma piace questo genere? Piace oppure proprio no, non ci siamo? Senti, piace, sì. Piace. A me no. Ecco, io a quello volevo arrivare. Chi se ne frega degli altri? No, 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 no. Però è così, è il business. È così, deve andare così, è il mercato. Succede pure in America che rapper di un certo livello fanno dei pezzi che ne so con Justin Bieber, Miley Cyrus. Succede, no, vabbè, succede, succede anche quello. E poi c'è il classico Pitbull che fa, insomma, coppia con tutti. In tutte le salse. In tutte le salse. Ho detto prima o poi ce lo ritroveremo con Gigi D'Alessio, qualcosa del genere succederà. Possiamo dare qualche anticipazione magari sui prossimi nomi, magari proprio il prossimo che porterete qui a Bari? Abbiamo Enzi e Mamma Maria insieme. Oh, che bello. Io sono innamorata di Mamma Maria, davvero, lei è forte. Eppure Enzi, Enzi è fortissima. Sì, 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 è vero, è vero. Tiziano sa benissimo chi sia Enzi, vero Tiziano? Sì, poi ti faccio leggere le mail che manda formali più che mai. Si parla di Bari Pop Metro, lui manda le mail formali. Va bene, andiamo avanti. Poi avremo, per la gioia di tutte le ragazze, Ghevon. Oh, e beh, Ghevon, sì. Anche lui è uno di quelli che ha dovuto faticare tanto prima di salire in betta, in cima alle classifiche, che poi ce l'ha fatta, insomma, io poi seguendo un pochino da qualche anno Bari Pop Metro per mestiere, ma anche per piacere, perché a me l'hip hop piace, anche se non sembrerebbe, Ghevon era uno di quei nomi che sentivo spesso, insomma. Io ricordo che arrivò qui a Bari Mr. Phil, tra l'altro portato proprio da voi, che è uno dei maggiori produttori in Italia, un bravissimo rapper, poi romano, e lui mi faceva spesso il nome di Ghevon, tante le collaborazioni con Ghevon, e invece ora è lui arrivato in cima alle classifiche italiane. Sì, Ghevon è richiestissimo. Poi sta girando con questo tour molto particolare con la band, quindi va a piacere. Ci sarà anche lui, insomma, ci saranno poi ovviamente... Su son system. Oh, che belli, che belli. Insomma, ce ne saranno davvero tanti di nomi, io sarò pronta a dare gli appuntamenti in questi mesi, in queste settimane, e magari sarà anche bello avere uno di voi qui, visto che a giro vi faccio svegliare presto la mattina ogni tanto. Poi tra l'altro, lo sai che venerdì ci sarà J-AX qui a Bari, approfitto per dire anche questa cosa. La Feltrinelli sarà il firmacopio per il suo nuovo album, quindi rimaniamo in tema, in tema hip-hop, però nel frattempo ricordiamo l'appuntamento di... In tema ibrido. In tema ibrido, anche lui, grazie a Dio. Insomma, è un po' cambiato. Adesso c'è, a proposito di duetti, l'ultimo con Nina Zilli, se non erro. È lui? Sì, credo che sia lui. Ora sbaglio, facciamo una gaffe tutti e due. No, è lui. Va bene. Però ricordiamo l'appuntamento ancora una volta di Bari Pop Metro per sabato, con i Macete Warriors. Questo sabato, 7 febbraio, Macete Warriors, e poi After Party Bari Pop Metro. Eh sì, ci sarà tutta la crew e ci sarà veramente da divertirsi, da scatenarsi, insieme a tutti questi ragazzi. Salutami di tutti, ovviamente, Miss Tappi. Saluto Big Fab, Shogun, Felge, Felice e Chimni, e poi Dario del Demodè. Esatto, allora salutiamo anche Dario. Io ti ringrazio davvero tanto per esserti svelato festissimo questa mattina, per essere stato qui con me. Noi ci prendiamo un attimo di pausa e ci ritroviamo tra pochissimo con un punto doc. Ciao, ciao.